Come ogni anno si è celebrata presso il Colle della Sietta la rivocazione storica della battaglia del 1747. Nonostante l'inclemenza del maltempo è andato in scena un programma ridotto che ha compreso la messa in piemontese e la riedizione di un momento storico dello scontro configurante in costume dell'epoca. Al Colle della Sietta, il 19 luglio 1747, ha avuto origine il Piemonte moderno. L'epica resistenza dell'esercito austro-piemontese contro i francesi ha posto le basi dell'allargamento dei confini della nostra regione, sanciti dalla pace di Acquisgrana del 1748. A oltre 2.500 metri di quota tra le valli Chisone e Susa, si affrontarono i 20.000 francesi e spagnoli guidati dal Cavaliere Bellisle e i 7.500 piemontesi del generale Cacherano di Bricerasio. Si trattò di una vittoria eroica. Dopo 5 ore di aspri combattimenti con il calare della notte, i francesi si ritirarono. L'ironico appellativo dei piemontesi Bougianen deriverebbe proprio da questo scontro. La manifestazione della Sietta, che costituisce anche la festa del Piemonte, si richiama ai principi della fratellanza piemontese e per questo sono state ricordate tutte quelle persone che hanno speso la loro vita per difendere e tramandare l'identità della nostra regione.